Ci sono troppe barriere architettoniche, io devo sempre avere qualcuno che mi accompagna gentilmente a fare la spesa, anche solo fare un giro per non stare sempre isolata in casa, ho sempre bisogno di uno campognatore perché ci sono tante barriere architettoniche che mi impediscono di muovermi da sola. Io sono poliomelitica dall'età di 17 mesi, cammino in casa con le stampelle per poter svolgere le mie funzioni di casa, però quando devo uscire e fare lunghi tragitti ho grosse difficoltà e uso la carrozzina, per cui se devo andare a fare la spesa ovviamente con le stampelle ci impiegherai troppo tempo e con molta fatica, invece con la carrozzina potrei se non ci fossero queste barriere architettoniche. La mia giornata tipo è essere in casa, a meno che qualcuno se ho bisogno lo devo chiamare e gentilmente le persone del quartiere mi danno una mano. Però vorrei anche cercare di essere indipendente il più possibile perché è tutta la buona volontà delle persone, però ognuno ha la sua quotidianità da vivere, ha i suoi problemi, hanno le loro cose quotidiane da svolgere. Per cui io sono veramente quasi sempre isolata in casa.